Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari in studio Silvia De Sandi. In primo piano lo scandalo nella distribuzione di pane e prodotti da forno nelle mense degli ospedali e delle scuole baresi. Ieri il blitz dei NAS che hanno chiuso un panificio a Carbonara, ma la nostra inchiesta va oltre nell'interesse della tutela della salute pubblica. Del caso se ne sono occupate Cristina Ferrigni e Serena Russo. Occhi puntati sui panifici baresi e sulla distribuzione di pane e prodotti da forno nelle mense scolassiche e ospedaliere. Dopo il blitz dei carabinieri del NAS in un panificio di Carbonara che riforniva quotidianamente panini e focacce destinati alle mense del policlinico, universitarie ma anche ad alcune caserme militari e la chiusura dell'attività commerciale per il pessimo stato di igiene del locale stesso, l'allarme tra i cittadini si estende a macchia d'olio. I controlli dei militari nel panificio in questione sarebbero scattati il 24 settembre scorso, immediatamente dopo la denuncia depositata ai carabinieri dalla ditta responsabile della ristorazione. In una confezione di pane a fette destinata ai malati del policlinico, alcuni addetti avrebbero trovato un insetto. L'accaduto potrebbe essere sufficiente all'apertura di un fascicolo d'inchiesta che al momento non c'è. È stata notificata soltanto una sanzione amministrativa di 10.000 euro, forse troppo poco rispetto alla gravità del caso. La non conformità stata segnalata il 24 settembre. Si è subito in autotutela a prezzo di altri fornitori. Era un problema di questo panificio perché si era allargato a dismisura col filmato che aveva visto, insomma, prendendo dei locali che non erano assolutamente idonei. E lo scandalo non ha lasciato certo indifferenti gli inquilini di palazzo di città che ora chiedono controlli a tappeto sulla qualità del cibo nelle refezioni scolastiche. Sentiamo. Qualche mese fa a Telebari su impulso di segnalazioni giunte in redazione e su anomalie nel servizio di refezione scolastica era stata nelle scuole per verificare la qualità del cibo dato ai bambini. Non c'è quindi da stupirsi se quanto accaduto nelle menze ospedaliere abbia stato allarme a Palazzo di Città, da cui già stanno partendo i primi controlli sulle forniture all'interno delle scuole. Noi abbiamo alzato il livello di attenzione e abbiamo richiesto conferma dei fornitori da cui si fornisce la ditta vincitrice dell'appalto, la quale ci ha mandato il suo elenco e ci ha assicurato quindi che nessun pane, focacce, taraglie e quant'altro è stato preso dal panificio oggetto in questione. A volerci vedere chiaro anche Desiree di Geronimo che nella prossima riunione in aula d'Alfino presenterà un'interrogazione sul tema. Maggiori controlli, chiede la consigliera, l'inversione di un sistema divenuto con il passaggio di competenze alle ASL ormai solo repressivo e non più preventivo. Rimano fatto, questo è un panificio, ma rimane il grave problema del controllo di tutti quei locali commerciali e di quegli alimenti che vengono là prodotti, che diciamo così vengono prodotti in situazioni non conformi a legge. Su questo io credo che anche il Comune, e chiederò in un ordine del giorno un impegno del Sindaco ad attivarsi con la sua giunta per diventare anche parte diligente nell'effettuare questi controlli. E' scomparso da Valenzano Alessandro Leopardi, 38 anni, corniciaio. Di lui non si hanno più notizie dal primo ottobre quando sarebbe dovuto andare a prendere da scuola una delle due figlie minorenni. A denunciarne la scomparsa la sua convivente di 42 anni. L'uomo nel 2005 aveva denunciato alcuni membri del clan Stramaglia per estorsione. In quella occasione tre pregiudicati furono arrestati dai carabinieri di Trigiano. Lo scomparso per ragioni di sicurezza fu trasferito nelle Marche per poi rientrare a Bari nel 2011. Da allora l'uomo non avrebbe subito minacce di alcun genere. Gli investigatori non sono ancora in grado di fare ipotesi sulla scomparsa. Unità cinofile con i cani molecolari stanno battendo la zona del sud-est barese. Scoperto dai carabinieri il nascondiglio della mala in un'area condominiale di Iapigia. In via Guglielmo Appulo, roccaforte del clan Parisi, i militari del nucleo radiomobile hanno trovato un revolver con sei cartucce nel tamburo. Poco distante in via Archimede, invece, i militari hanno scoperto, nascosta in una Peugeot abbandonata e risultata rubata, una semi-automatica beretta in dotazione alle forze di polizia con matricola a brasa e colpo in canna. Le armi perfettamente funzionanti sono state sottoposte a rilievi da parte dei carabinieri della sezione investigazioni scientifiche per accertare se siano state utilizzate di recente in episodi delittuosi. E' tempo di bilanci per la Fiera del Levante, numeri in crescita per la 78esima campionaria barese. Si pensa già alla prossima edizione. Barbara Cirillo. Sono passate poco più di due settimane dalla chiusura della 78esima campionaria barese ed è tempo di bilanci. La Fiera del Levante si conferma la terza fiera italiana per afflusso di pubblico in aumento del 5% rispetto allo scorso anno. La gente porta gente, ha dichiarato il presidente Ugo Patroni-Griffi, i numeri parlano chiaro. In aumento del 6,82% i ricavi propri di manifestazione, ovvero i ricavi ottenuti dai pagamenti degli espositori, ben 610 quest'anno, quasi il 10% in più rispetto al 2013. In aumento anche i ricavi da biglietteria, oltre 400 mila euro, che hanno superato persino i livelli raggiunti nel 2010. Ricavi insomma in aumento del 10,61% per un totale di oltre 3 milioni di euro. I costi invece di allestimento sono cresciuti del 25%, tanto quanto i metri quadri delle superfici espositive. Totale dei costi, 1.815.000 euro. Una fiera che cresce nonostante i problemi da affrontare che non vanno dimenticati, come suggerito dal presidente della Camera di Commercio Alessandro Ambrosi. La 78esima fiera del Levante sembra aver cambiato le sorti del quartiere fieristico, che ospiterà altre fiere di settore nei prossimi mesi, come l'ACMEI Expo e il Medimex, ma la sola campionaria ha messo in moto l'economia locale, diventando vetrina delle eccellenze pugliesi. Ma quanto vale per il territorio pugliese la campionaria? Allora, con gli amici di Statistica Economica abbiamo fatto due calcoli. La campionaria genera un plus valore per il territorio in una forchetta fra i 12 e i 15 milioni di euro. E se è vero che è tempo di bilanci, è anche vero che è tempo di mantenere le promesse. Ne sa qualcosa il primo cittadino di Bari. Io ho mantenuto l'impegno, Presidente. Avevo preso l'impegno di dare un milione e 500 mila euro. Martedì abbiamo approvato il bilancio. C'hai Catanese in quarta fila, che è il direttore della ragioneria. Se non sei già passato a prenderti i soldi, Presidente, i soldi li puoi andare a prendere. A risentire della crisi anche l'agroindustria pugliese, ma è necessario attrezzarsi in modo da cogliere le opportunità che si presenteranno. Con queste parole il direttore della sede barese della Banca d'Italia, Giorgio Salvo, ha presentato la ricerca economica curata e sviluppata da Antonello D'Alessandro, del Dipartimento Economico della Banca stessa. In crescita, secondo lo studio, fattori come la consapevolezza del marchio e valorizzazione del prodotto e delle eccellenze locali. Il sistema agroindustriale pugliese affronta la sfida della competitività internazionale con la consapevolezza che per vincerla è necessario cogliere le opportunità offerte dall'intensificarsi della ricerca e dell'innovazione nel campo agroalimentare. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo nuvoloso, temperature comprese tra 16 e 20 gradi, venti da deboli a moderati, mari poco mosso. Vi segnalo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net, infochiocciola, ilsegnodizorro.it. In chiusura vi lasciamo allo speciale dedicato al forum sulla nuova legge elettorale in corso di approvazione in Consiglio regionale organizzato nell'ambito dell'accordo quadro tra Università degli Studi di Bari e la Fondazione Giuseppe Tatarella. Più tardi con informazioni di Telebari. Università degli Studi di Bari e Fondazione Giuseppe Tatarella insieme per contribuire alla crescita culturale, politica e sociale della cittadinanza ma soprattutto dei giovani studenti baresi. Nell'ambito dell'accordo quadro sottoscritto dalle due istituzioni si è tenuto questa mattina il forum sulla nuova legge elettorale in corso di approvazione in Consiglio regionale. Un momento di confronto e di scambio di idee fondamentale anche per Onofrintrona, Presidente del Consiglio regionale. Un utile confronto sulla legge elettorale, sui temi della maggioranza, sulle soglie di sbaramento. Sono stati approntati anche i temi rilevanti come quelli della parità di genere come con una legge elettorale poter favorire la presenza di più donne in Consiglio regionale. Quindi la legge elettorale è in fase di elaborazione. questi confronti ti aiutano a verificare sulle osservazioni che vengono fatte, per esempio se è giusto e utile mantenere le soglie di sbaramento alte all'interno della coalizione o se le soglie di sbaramento devono essere poste soltanto per i partiti che corrono da soli. e comunque il tema dominante è quello di quale maggioranza assicurare al Presidente eletto perché possa essere rispettato il principio importante, irrinunciabile, della governabilità. Certamente c'è stato un confronto molto intenso e ricco anche con approfondimenti dal punto di vista legislativo importanti e ne sappiamo un po' di più rispetto a ieri. La vera mission della nuova legge elettorale l'ha analizzata tra gli altri Ignazio Lagrotta, docente di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Bari. Di garantire la governabilità, di ridurre la fremmatizzazione partitica e di assicurare anche la parità di genere che è uno degli elementi che è stato posto all'attenzione anche degli organi di giustizia negli ultimi anni. Quali sono secondo lei le priorità della nuova legge? La priorità essenzialmente è quella di superare le criticità che sono state rappresentate dalla Corte Costituzionale con riferimento sia al premio di maggioranza che deve essere tale da garantire anche le minoranze e sia rispetto alle soglie di sbarramento che non devono escludere dal novero dei partiti, dei soggetti politici che vengono ammessi in Consiglio regionale coloro i quali appunto non riescono a vincere le elezioni. Il forum è solo il secondo di tanti appuntamenti che l'accordo quadro tra Università degli Studi di Bari e la Fondazione Giuseppe Tatarella prevede. Vogliamo fare con l'Università degli Studi di Bari una serie di incontri tesi a portare fuori dalle aule della politica alcuni temi importanti come quello della legge elettorale regionale che leggerà a marzo il nuovo Consiglio regionale non più a 70 ma a 50 componenti e quindi tutte queste iniziative fanno parte di un accordo quadro formativo con l'Università degli Studi di Bari per creare una maggiore sinergia tra la Fondazione Tatarella e l'Università degli Studi e i ragazzi perché ci sono anche molti studenti interessati a queste iniziative e quindi ci saranno altre iniziative nei prossimi giorni. Abbiamo voluto portare fuori da Via Capruzzi, dal laureo e da Regione il tema della legge elettorale per farlo conoscere ai cittadini e per renderlo il più partecipato possibile. Non a caso oggi c'erano qui importanti professori universitari di diritto costituzionale e diritto amministrativo, c'era un esperto di simulazione elettorale in modo da prevedere quello che sarà il futuro Consiglio regionale a grandi linee, c'erano anche le donne del Comitato 50 e 50 degli Stati Generali delle Donne perché proprio vogliamo che questa legge elettorale sia la più partecipata e condivisa possibile. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.